Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video questo video non era previsto quindi scusatemi perchè sono in pigiama è tutto comunque, vi volevo dire che la mia migliore amica ha aperto un canale che si chiama soffi tumblr 3.05 comunque, una cosa di queste vi lascio il link qui stato in descrizione quindi andate a seguire immediatamente praticamente lei caricherà video smr, video di slime, ecc già che ci sono vi dico di iscrivervi pure nel canale della mia cuginetta che si chiama Greta Calabrese e appunto su youtube l'ha trovata come Greta Calabrese e niente poi, ah si, lo sto scordando vi volevo dire anche di scrivermi qui sotto nei commenti come posso creare con la resina senza stampi perchè, si ho la resina però non ho gli stampi e non riesco a trovare stampi in silicone quindi scrivetemi qui sotto nei commenti se sapete qualche metodo per creare con la resina senza stampo e niente ciao 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 ciao